Che meraviglia! Ritrovarsi in questa stanza e ammirare quest'opera meravigliosa, la scuola di Atene di Raffaello. Eh sì, ci ritroviamo nel Rinascimento. Tante sono le invenzioni, le scoperte e i grandi uomini in questo periodo d'oro, ora al cospetto di Gutenberg e poi vicino a Lorenzo il Magnifico. La messa diventa la principale forma di musica sacra. Tre sono le principali scuole di produzione di musica sacra, la scuola fiamminga, la scuola romana e la scuola veneziana. La scuola fiamminga porta alla massima evoluzione la polifonia, la scuola romana invece si basa sulla musica vocale. Il maggior rappresentante è Pierluigi da Palestrina. Sì ragazzi, sono proprio qui, in piazza San Marco e proprio qui nasce la scuola veneziana, all'interno proprio della Basilica di San Marco, dove si promuove l'uso di strumenti insieme al coro. Si pratica la policolarità, uso di più cori per un effetto stereofonico. È magnifico! Beh, visto che sono a Venezia mi faccio anche un giretto in gondola e intanto vi parlo della musica profana presso le corti. Scesa dalla gondola mi trovo qui a Mantova, in questo bellissimo castello rinascimentale, per spiegarvi che anche nelle corti la musica, la musica profana, sarà sia vocale che strumentale. Nasce la figura del musicista di corte, lo strumento più amato è il liuto, ma a corte si balla anche. Il madrigale è la forma polifonica profana per eccellenza, infatti nel madrigale voce e strumenti si uniscono, perché nel madrigale c'è la ricerca di una melodia che rispecchi il testo poetico. Bene ragazzi, anche per oggi è finita, ci rivediamo alla prossima, ciao ciao!